Stand Benelli, un'altra novità che si propone per il 2018 è la TRK502X, che cosa guadagna? Come è successo per la Leoncino, la ruota anteriore diventa da 19 pollici, cerchio raggi, profili a margherita, lo scarico adesso più adatto al mondo del fuoristrada, ovvero si alza, è collocato più in alto rispetto alla sorella standard, anche per lei la forcella cambia inclinazione come è successo per la Leoncino 500, chiaramente per ospitare il cerchio di dimensioni maggiori, disponibilità e prezzi per la TRK502X si conosceranno da primavera dell'anno prossimo. Per quanto riguarda invece la TRK502 si parla di un leggero restyling, questo è il mondo TRK Benelli 502 in edizione 2018, voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti qua sotto e diteci la vostra, ci vediamo al prossimo video!